Ho bruciato la fotocamera ed ecco qua, questa è la foto Come vedete siamo, questo siamo noi La vedete bene nella foto, penso che l'ingrandirò, non lo so, no, forse no Questo siamo noi Wow, comunque ho trovato appena adesso un francobol Wow Salve a tutti ragazzi e bentornati all'Owl Club Io sono Padman e sono qui con una nuova parte di In... Little Inferno Inferno all'Enigma, non so perché, vabbè Come ho detto ho espanso la base, infatti adesso non costa più 100 ma costa 4,50 perché è uno in più E come vedete c'è la stella perché l'ho fatto tutti d'oro, ho comprato tutti tre volte Infatti vedete le monete sono parecchie Ora compriamo il nuovo catalogo First Person Shop Subito una combo con questo Intanto vediamo le nuove combo Hmm, 12 combo, sempre di più Wooden Block Combo Quindi c'è Tetromis, Tetromis, questa cosa qua Letter Block E Block da Costruzione Vedete adesso sono già pronti perché sono diventati livello d'oro Eh, già che ci siamo possiamo comprare Questone Ah, prima quest'altro Giant Spider E Uovo di Spider Fanno la combo Oh Arach... Arachnid Combo Arachnide sono i ragni Quindi Quindi Vediamo queste qua insieme Questi comunque sono i pezzi dei Tetris fatti di legno Davvero tanti Sono anche impilabili mi sembra Se volete potete giocare a Tetris E poi bruciarlo tra tutti tranquillamente Questo è quasi finito Così facciamo un paio di combo insieme E' bruttissimo sto cosa Brucia Wooden Block Combo E Arachnid Combo C'è di tutto in questi In questi cataloghi Quindi Vabbè E' così Andiamo avanti Vediamo cosa abbiamo Allora Pupazzo del Boss Toy Zombie Con Instant Seed Facciamo la combo Zombie Garden Tipo Plant vs Zombie Non so se conoscete il gioco Penso di sì Sicuro E vediamo Excellent Egg Eh ok Qua c'è l'uovo Infatti sembra Questo possiamo comprarlo Telefono Automaticamente Chiama Oh qualcuno Qui sta facendo una fiamma Anche parecchio alta Cos'è che brucia così tanto La miseria Ragno Ragno Radiattivo Vabbè Comunque Zombie Zombie Garden Vai Ecco Questo non fa niente Il Boss Bruciamo il Boss Dice niente il Boss Telefono Numero delle chiamate Oh Who Want A Summit Chi vuole un Summit Che non so cos'è Un Summit Io Sai cos'altro Bazziglioni di anni fa Quando Milioni Billioni Trilioni Di particelle Giravano nel cosmo Dentro la galassia Creavano Formavano Formavano come delle palle di neve E le stelle Andavano in fuoco E dopo Billioni di anni E Billioni Di miglia Un Mucchio di numeri Di particelle Sono Te insieme E hanno creato Te E me E un piccolo muro Tra di noi Sembra impossibile Ma è successo E Creato Un Grazie Per Particelle Un piccolo D'altro vicino Shukratlams A parte che è sempre più raccapricciante Questa bambina Ma non ha una famiglia Un po' Penso di si Allora Ehm Egg Excellent Facciamo egg Con Oh Dov'è? Queste cuova qua Egg Pack Perfetto Andiamo avanti Oh Questo C'è una combo Mi sembra Vedrò Puzzling Adventure Questo è Gentleman Adventure Quindi puzzle E Gentleman Questo Lo potrei Prendere dopo Cos'è che vuole? Ah Qualcosa dopo Allora Spada di cartone Cardboard Sword Ma si Ah non posso niente più Dai Francoballi Ne ho trovati Bastanza Eh Non è che Anche lì adesso Vedete Un francoball Dimmi che funziona Lo stesso Anche con due uova Sì Eccellente E mette un rumore Quando scoppiano Che sembra Tipo Bo Avventuroso Questo deve essere Qualche giochino No Brucia Ok Non l'ero dimenticato Della combo Allora Tanto bruciamo Anche questi Che non ce ne fregano Più niente E Andiamo avanti Goo ball Goo Le palline Goo Perché La I creatori Di Little Inferno Sono anche i creatori Di World of Goo Quindi Apriamo un po' Di cose Questo 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 posso Già comprarlo Casual game Casual game Forse Sì Esatto C'è un World of Goo Una combo Che possiamo fare Vabbè La spada La bruciamo La musichetta Bella la musichetta Oh no Una lettera Chi è? Chi è che viene a rompere? Ehm Non ho Non Ho tenuto La tua lettera E non ho premuto Il tasto Cancella Ah Ma non sai Quanto Che amore Non ho perduto Pagine bianche Possono Volere Possono Volere Qualsiasi cosa Dinosauri O Fuori dallo spazio Entità Del mondo Dove tutto Dove tutto è rosa La possibilità di andare indietro Per sempre Ma non puoi tornare indietro An amore Sugar Plumps PS Puoi prendere questo Ah Tasto delete Che succede se lo cancello? Non me lo ricordo Niente È un oggetto speciale Dovresti fare qualcosa Allora Questo qua Twisted Fistic Questo è un'immagine di World of Goo Insieme Alle palline di World of Goo Fanno World of Goo Ho saltato qualche combo Però qua sono No 34 Airplane mode Airplane Forse posso già farla Mi serve questo Gaming tablet E Cellulare Ovvero Quando siamo in aereo Che non possiamo giocare Con Computer Diciamo In questo caso Computer Visto che sono tutti giochi Di computer Questi belli Fanno veramente Con computer Possiamo giocare Con determinati oggetti Qua cosa c'è? Perfetto Ah Miss Octopus E Ho 3 Pesce e palla Per Questa qua Underwater combo Combo sotto Sott'acqua Ho 205 Quindi posso fare Un'altra combo Perché con Il Meta combo Meta combo Sarebbe Qualcosa di Tecnologico Va con Questo qua La versione beta Di Little Inferno In sviluppo Dal 1986 E' parecchio vecchio Può essere vero Qui Non so se Ce l'avete avuto Anche voi Questo giochino Qua Questo che dovevate Puntare Alle Papere Diciamo Che volavano Questo manca Un minuto Finiamolo Di Little Inferno Versione beta Non voglio scoppiare Quello la Ok Perfetto Scoppiamo tutto Combo Sott'acqua Meta combo E airplane Il fuoco pixelato E' Molto bello Molto molto Bello E' un effetto Della versione Del giochino Quello la Comunque Adesso non si è visto Perché la fiamma è molto alta Quel tablet che faceva quello Il giochino Delle papere che volavano E metteva quelle papere lì Infatti Ehm Questo qua Molto bello Andiamo qua Non possiamo Permettere Che la città Sia sovrastata Dalle persone Penso Sovrastata Vabbè Sovrastata So che ci sono Posso vedere I loro cammini E il loro fumo Ci sono molte persone Che posso contare Voglio visitarle tutte E chiederle Un milione Billioni Di domande Billioni Deve essere miliardi Comunque Vabbè Da dove vieni? Cosa vuoi fare? Qual è la tua puzza preferita? Come la tua puzza preferita? Ehm Vuoi bruciare le galassie Che ne so cosa ha detto Con loro fumo Dalle ciminiere Nelle loro teste Oh Mi faremmo fresco Ma io Avrò per sempre te Con amore Un bacio Sugar Plums Io non voglio avere te Però Mamma mia Che rabbri Abbrividisco Si può arrivare Fino a 99 Stampe Quindi penso che le farò Pixel Pixelated Pixel Pixelated È pixel E Questa qua che devo finirla Quindi L'altra Combo Japanese combo Toi Ninja Ninja È giapponese Con Sushi Che è giapponese Oh abbiamo già nuovo Guida Per lo stile Di Miss Nancy Gravity Toy 120 Questo infatti È l'oggetto Più cara Di questo Questo De Pian C'è anche questo Però che da fare Zombie E Pirata Per Brain Howie Tutti quelli che Hanno il cervello Diciamo Mostrano il cervello Ho del francoboli Da consumare Allora No Pixel Mi serve Questo Dannato Ora ti voglio Questo Ok Sushi Per Giapponese 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 Questo è proprio Vabbè Questo è per Quelli del cervello E questo Ok Tanto Non me ne faccio niente Bruciamo tutto insieme Colori Tutti i colori Brain Aoi Giapponese Pixel Ho ancora Il biglietto Per un abbraccio Gratis Chissà se Prima o poi Me lo darà L'abbraccio Mi fa Tieni Lo potrò Saluti in futuro Allora Quante combo Mi mancano Solo l'una Rosi combo Rosi combo Allora Questo Come vedete Ha delle rose Intorno Quindi prendiamo Questo E La Bamba La valkyrie Per capire Se ricordate Quando canta Vengono Come si chiama Arriva Cos'è che arriva Le rose Cadono le rose Questo è bellissimo Piccole galassie Magari le vorrà Sugar Plums E Il robot Spaventoso Che non so Perfetto Già che ci sono Però potrei Comparare Oggetti Per Diventare Doro Anche questi Prima della prossima puntata Lo farò Oh Possiamo già comprare 225 Vediamo adesso Quanto ci vogliono Per questi Valkyrie E questo Questa è gravità Infatti attira Tutto a sé Rosi Bomb Vediamo anche Gli ultimi Piccole galassie Attirano a sé Esplodono Proprio banalmente E questa dove arriva Ah L'avevano A frate Allora I robot Cosa fanno Camminano Così Tranquillamente Simpatici Informazioni Del meglio Quando le nuvole Sono in cerchio Arriva il vento C'è il vento fuori Ma il vento Non arriva Né da est O da ovest O da nord O da sud It's blowing Nasce qua Tipo da Viene da sopra 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 State caldi La dentro La sotto He he Notizia Dal pallone Dal pallone Dal pallone Oltre il fumo Di nuvole Oltre il Nuvole di fumo Oltre la città The weatherman Eh si signori Abbiamo finito Anche questo Catalogo Io vi saluto 225 ce li ho Però voglio Comprare tutto Voglio fare anche questo Tutto dorato E noi ci vediamo Quindi alla prossima Parte di Little Inferno Qui da Padman è tutto Un saluto Alla Club E ci vediamo Alla prossima Parte Ciao a tutti Ciao a tutti